E se la tranquillità della tenuta fosse solo un'illusione, Antonio è scomparso e al suo posto arriva un giovane misterioso con un segreto che sconvolgerà ogni equilibrio, non perdere neanche un secondo di questo episodio ricco di rivelazioni e intrighi. Il capitolo 238 ci ha regalato una serie di emozioni intense e inaspettate partendo da un evento che ha sconvolto profondamente la tranquilla routine della tenuta. La cuoca Simona con il cuore colmo di speranza corre verso la cucina aspettandosi di vedere suo figlio Antonito. Ma quando la porta si apre il suo mondo sembra crollare. Davanti a lei non c'è il viso familiare di suo figlio ma quello di un giovane sconosciuto. I suoi occhi si riempiono immediatamente di lacrime mentre il dolore e la delusione le serrano il cuore come una morsa. Candela percependo l'angoscia di Simona si muove con rapidità. Afferra una scopa con mano ferma e con determinazione la brandisce come un'arma. Il suo sguardo è di ghiaccio mentre fissa il giovane. Chi sei e perché sei qui? Urla con la voce tremante ma carica di autorità. Il giovane intimidito fa un passo indietro e con la voce spezzata dall'emozione confessa sono Valentin il migliore amico di Antonio il figlio di Simona. Le sue parole sono un colpo al cuore per Simona ma rivelano una verità ancora più sconvolgente. Antonio non è venuto perché è paralizzato dalla paura. L'angoscia di Simona cresce il suo respiro si fa affannoso. Valentin cercando di tranquillizzarla continua a parlare. Antonio lavora in una falegnameria spiega e non ha potuto prendere un giorno libero a causa del lavoro ma io Valentin ho deciso di licenziarmi e venire al suo posto per portare il messaggio. Ma prima di continuare a scoprire cosa ci farà scoprire questo video ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere i nostri futuri video. La mattina successiva la tenuta è in fermento. Nella zona nobile durante la colazione il capitano Lorenzo si presenta con un atteggiamento sfrontato proponendosi come investitore per il business delle marmellate. La signorina Catalina con il suo carattere forte e deciso non si lascia intimidire e lo ferma subito. Non mi fido di te capitano dichiara con fermezza lasciando tutti i presenti a bocca aperta. Martina intanto si sente nuovamente male e non riesce a mangiare. La preoccupazione è palpabile mentre Ximena confida che sta vivendo un periodo molto difficile. Vuole scoprire dove sia stato suo marito quando è partito con l'aeroplano. Catalina sempre pronta a offrire supporto le consiglia di affrontare Manuel direttamente. Devi chiedergli la verità e affrontare i problemi faccia a faccia le dice con un tono rassicurante ma deciso. Nel frattempo Mauro e Manuel si incontrano per discutere di Ximena. Mauro con un'espressione preoccupata chiede informazioni su di lei. Il lacche gli confessa che sua moglie è molto interessata a conoscere tutto di Manuel e che la situazione sta diventando sempre più scomoda per il personale di servizio. La tensione cresce mentre giù in cucina Catalina arriva con l'intenzione di conoscere il figlio di Simona. Invece si trova davanti Valentin che con la sua disinvoltura e il suo comportamento spavaldo riesce a conquistare la simpatia della signorina. Ordinerò che ti prepari in un letto ma dovrai lavorare per guadagnarti il pane gli dice offrendogli un piccolo lavoro nell'azienda di marmellate. Dietro la porta Geronimo ascolta tutto dimostrando ancora una volta la sua curiosità insaziabile. In un'altra scena Feliciano è impegnato in alcune attività quando Martina si avvicina a lui. Parla di suo padre Fernando ricordando quanto lo stimasse. Martina si lascia andare alla tristezza, le lacrime scorrono sul suo viso mentre ricorda i momenti felici con suo padre. Hannah arriva e interrompe il momento mostrando sincera preoccupazione per la giovane. Martina è tormentata dai rimpianti per gli errori commessi quando suo padre era ancora vivo e ora sente che non può più fare nulla per rimediare. Prima di continuare a scoprire che succede iscriviti al canale e lascia un like sotto e attiva le notifiche è un gesto semplice che non ti costa nulla ma che mi dà un enorme supporto e ti assicura l'accesso in anteprima ai nostri nuovi video grazie. D'altra parte Romulo mostra a Pelaio un magazzino spiegando che sarà utilizzato per le marmellate e che solo lui avrà la chiave. Geronimo e le cuoche sono escluse da questa gestione, cosa che sorprende molto Romulo. Sospettiamo che il magazzino verrà utilizzato per nascondere le armi aggiungendo un ulteriore strato di mistero alla trama. Nel cortile Hannah porta un caffè ad Abel e discutono dello stato emotivo di Martina. Donia Pia elegantemente vestita come per un'occasione speciale annuncia che sta andando a Lujan per vedere suo figlio Dieguito. In un'altra scena Ximena interroga nuovamente suo marito Manuel per scoprire dove sia stato realmente. Durante la conversazione Manuel trova un'iscrizione per un campionato di aviazione ma il termine è scaduto. Furioso accusa sua moglie di averglielo nascosto. Anna visita l'ufficio di Romulo per assicurarsi che stia seguendo le prescrizioni mediche. In cucina Simona e Candela non sono affatto contente delle nuove direttive di pelaio riguardo alla chiusura del magazzino. Improvvisamente Catalina entra e il silenzio cala sulla stanza. Simona conclude il suo lavoro e Catalina non ha conoscenza di tutti i dettagli resta sorpresa e un po' confusa. Anna e Maria Fernandez discutono di Valentin che sembra essere ben accolto dal personale. Salvador e Feliciano vanno a parlare con lui trovandolo in compagnia di alcuni figuranti che di solito non parlano. Dopo la conversazione Salvador confida a Feliciano che non si fida di Valentin avendolo colto più volte mentre cercava di corteggiare Maria Fernandez. Valentin sembra essere il classico personaggio che cerca di fare il simpatico con tutti ma le sue vere intenzioni rimangono oscure. In un'altra scena Catalina cerca pelaio e lo rimprovera per la questione delle chiavi del magazzino. Il conte con fare subdolo cerca di calmarla per perseguire i suoi interessi principalmente quello di nascondere le armi. Nel frattempo in cucina Simona e Candela discutono animatamente di natillas e crema catalana quando Feliciano arriva e il loro malumore si dissolve. Feliciano chiede di sua sorella e le cuoche gli raccontano tutto quello che Petra ha fatto a Donia Pia quando è rimasta incinta. Il giovane se ne va sconvolto con il cuore pesante dopo aver appreso la verità. La Marchesa va a parlare con suo figlio Manuel e gli chiede spiegazioni sul perché non risolva i suoi problemi con Jimena. Manuel confessa a sua madre che non ha scelto Jimena ma è stato costretto a sposarla sentendosi manipolato. La Marchesa rimane scioccata dalla determinazione di suo figlio che finalmente mostra segni di ribellione. Tuttavia la preoccupazione per la sua salute cresce e vedremo nel prossimo episodio come consulterà il medico per cercare di risolvere i suoi problemi. Candela con il viso acceso dalla rabbia e le mani che gesticolavano furiosamente stava sfogando la sua frustrazione con Simona in cucina. Le sue parole, piene di vehemenza, rimbombavano tra le pareti della stanza mischiandosi con il profumo delle spezie e il calore del forno acceso. Ogni frase era un colpo d'ira che spezzava il silenzio mentre Simona cercava di mantenere la calma, ascoltando con pazienza l'amica. Improvvisamente Candela si girò di scatto, i suoi occhi fiammeggianti incrociarono quelli freddi e severi del Marchese Don Alonso che la fissava dall'ingresso della cucina. La sua figura imponente sembrava riempire lo spazio, l'espressione sul suo volto era di ghiaccio. «Spero che quegli aggettivi non fossero riferiti a me», disse, con un tono glaciale che fece calare il silenzio nella stanza. Le parole, taglienti come lame, lasciarono un eco pesante nell'aria. Il Marchese era sceso in cucina alla ricerca di Romulo, ma l'ira di Candela l'aveva fermato, portando con sé un'ondata di tensione palpabile. Nel frattempo Manuel parla con sua zia Margarita, che gli consiglia di non lasciarsi manipolare. Manuel ammette che il suo più grande errore è stato sposare Jimena e sua zia Galei dice che deve affrontare le conseguenze delle sue azioni. Le emozioni sono state intense e le rivelazioni sorprendenti. Manuel sembra finalmente prendere una posizione, ma riuscirà a mantenere il suo coraggio? E quale consiglio darà Margarita a Manuel? Nel prossimo episodio? Restate connessi per scoprirlo. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il seguito» nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie.